Michelle Yvonne Unziker è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera con cittadinanza italiana. Momenti decisamente emozionanti furono quelli che condussero Michelle Unziker ed Eros Ramazzotti a far sognare milioni di italiani con la loro favola d'amore. Considerati una delle più belle coppie di sempre del mondo dello spettacolo. I due ancora oggi si vogliono tanto bene e fanno sperare i fan. Hanno spesso dichiarato però che unisce loro solo affetto, nonché il fatto di avere insieme una figlia e da poco anche un nipote, il figlio di Aurora. Nonostante ciò i loro fan amano sapere tanti, retroscena della loro storia d'amore, che a distanza di anni e di un divorzio, continua ad emozionare. La conduttrice svizzera ricorda gli inizi di quella storia d'amore con Eros, quando i due erano giovanissimi, quando si conobbero i due si innamorarono perdutamente l'uno dell'altra. La giovane modella Bella e alle prime armi viveva a Bologna insieme alla mamma Ineke. Come raccontò a Maurizio Costanzo all'intervista, lei non rivelò il suo indirizzo al cantante e non raccontò alla mamma che lo stava frequentando.